buongiorno ai nostri video ascoltatori del canale youtube italia medievale oggi presentiamo un interasse un interessantissimo saggio che si intitola sulle tracce dei longobar di italia settentrionale di elena percivaldi sono 160 pagine per 13 euro sarà in libreria a partire dal 4 marzo ma ha già avuto la fortuna di uscire abbinato a diversi quotidiani locali noi abbiamo ovviamente la fortuna di avere con noi l'autrice la dottoressa elena percivaldi a cui io come d'abitudine lascio subito la parola per non rubare spazio prego elena eh buongiorno maurizio buongiorno amici d'italia medievale e tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano eh grazie ovviamente per l'invito a partecipare a questa presentazione oramai consuetudine per i testi quando escono è devo dire un punto di riferimento anche le tue trasmissioni per essere sempre aggiornati su quelle che sono le novità in ambito medievale quindi complimenti maurizio per questa informazione che fai sempre eh niente che dire è un libro questo che nasce come potremmo dire naturale continuazione di quell'altro di che abbiamo già presentato eh il i Longobardi alle radici dal un popolo alle radici della nostra storia che è uscito per Darkos a luglio del 2020 eh che tra l'altro è anche tra i cinque finalisti del premio Italia medievale quindi questo se lo dico anche se per caso qualcuno l'ha letto e gli è piaciuto magari sostenetelo nella nella fase finale che c'è tempo fino ad agosto ehm e quindi una naturale prosecuzione diciamo di un discorso che nasce tanti anni fa con un inizio appunto di di studio e di approfondimento nei confronti di questo tema dei Longobardi che appunto si è concretizzato come prima fase tra virgolette con in questo testo i Longobardi un popolo alle radici della nostra storia eh che aveva come scopo insomma un po' raccontare non soltanto le vicende storiche quanto dare magari una visione ecco generale del del problema Longobardo certo raccontandone anche le vicissitudini diciamo i fatti gli eventi i personaggi però cercando di far capire anche eh ad ampio raggio quello che è stato il contributo essenziale del dei Longobardi all'interno della storia d'Italia della storia medievale della storia d'Italia ma anche della storia d'Europa e quindi cercare di inquadrarlo per quello che effettivamente fu cioè un popolo eh tutt'altro che barbarico o perlomeno barbarico se eh intendiamo con questo la provenienza fuori dall'impero romano ma che eh nel tempo poi anche entrando in Italia soprattutto è riuscito a trasformarsi anche attraverso l'adesione al cristianesimo insomma con l'impatto anche con eh il territorio e con la cultura la civiltà che ha trovato nel nel territorio italiano trasformarsi diventando poi una un popolo sostanzialmente diverso da quello delle origini e eh riuscendo potremmo dire nella nella sintesi anche miracolosa se vogliamo da tanti punti di vista eh di quello che era l'heritaggio importante del mondo classico del mondo romano del mondo imperiale con appunto gli apporti provenienti dalle popolazioni all'Octone dalla dagli stessi Longobardi dalle popolazioni barbariche quindi di fatto eh rappresentando una base da qui partire da cui avrebbe guardato poi anche il resto del medioevo perché comunque anche certi esiti se vogliamo sul piano meramente artistico per parlare e avvicinarci poi al tema del secondo libro sono comprensibili alla luce anche di questa esperienza e del fondamentale apporto appunto dato dai Longobardi eh come anche eh cinghia di trasmissione tra la classicità e il medioevo e quindi eh l'avere anche in qualche modo istituzionalizzato l'essere riusciti in una sintesi eh di eh esperienze estetiche anche se vogliamo contenutistiche dal punto di vista artistico differenti quindi una sorta di eh di di base di partenza importante di rettaggio che hanno poi consegnato al medioevo e eh come base di partenza per altre esperienze successive come l'arte per esempio eh romanica e qui infatti veniamo al tema di questo secondo libro perché se il primo diciamo era focalizzato sulla storia dei Longobardi sulle fonti sugli aspetti della vita materiale quest'altro libro invece sulle tracce dei Longobardi appunto Italia settentrionale che è uscito per le edizioni del Capricorno esce il 4 di marzo è un testo completamente differente perché innanzitutto è completamente illustrato come vedrete adesso cerco di mostrarvi un po' gli interni vedete ci sono illustrazioni anche su ogni pagina quindi è anche bello sul piano non possiamo dire estetico devo dire che è molto carino anche sulla resa grafica ed è un viaggio appunto sulle tracce dei Longobardi cosa vuol dire andare a riscoprire quelle che sono le tracce eh effettivamente visibili il retaggio che hanno lasciato sul territorio a livello monumentale soprattutto quindi stiamo parlando di chiese eh di monasteri pochi edifici ehm e eh anche ovviamente dove si possono trovare le varie testimonianze dei Longobardi che arrivano soprattutto provengono soprattutto dagli scavi quindi vari musei eh che conservano eh reperti di origine di Longobarda e dove andare a vederli e poi eh una parte anche che esamina alla fine il retaggio potremmo dire morale dei Longobardi soprattutto sul piano dell'immagine cioè la loro fortuna potremmo dire eh ossia quello che i Longobardi hanno rappresentato eh le storie protagonistiche eh sono stati appunto importanti all'interno della storia Longobarda come questi protagonisti e questa storia questi episodi anche celebri in certi casi sono stati trasmesse ai posteri dalle fonti in particolar modo da Paolo Diacono e poi appunto eh come sono stati percepiti recepiti nel corso del tempo dando origine appunto quello che possiamo definire il mito dei Longobardi che non sempre fu un mito tra l'altro positivo eh basti pensare ad esempio a tutto il pregiudizio insomma che i Longobardi ehm che era concentrato sui Longobardi nell'Ottocento soprattutto romantico ma anche nel Seicento eh e quindi eh diciamo la la visione di una popolazione fondamentalmente rozza barbarica all'octona di fuori di quello che era la l'ambito imperiale l'ambito culturale del vecchio eh del vecchio alvio appunto mediterraneo quindi imperiale sicuramente un retaggio romano eh e di conseguenza un elemento di rottura mai pienamente digerito insomma eh mai pienamente inseritosi all'interno dell'Italia mai nemmeno integratosi con eh quelli che erano eh gli abitanti appunto italici o romanici che come li vogliamo chiamare. In realtà eh come sappiamo alla luce delle soprattutto degli studi insomma di questi ultimi decenni eh le cose stanno ben diversamente perché i Longobardi sono stati una parte integrante della nostra storia hanno saputo e hanno anche voluto col tempo insomma trasformarsi come abbiamo detto all'inizio ma anche integrarsi con gli autotoni dando vita proprio ad una civiltà eh complessa, importante, ehm sostanziale e io direi anche fondamentale proprio per il dipanarsi della storia futura. Quindi il punto come questo eh dopo detto tutto questo, tutte queste belle cose dove si possono poi fruire ecco queste testimonianze dei Longobardi. Quindi questo libro eh ha cercato un limitatamente all'Italia stentrionale, poi dirò anche per quale ragione eh di ricostruire quelli che sono proprio i luoghi, cioè di raccontare i luoghi dove queste testimonianze sono visibili. Eh il libro è strutturato per capitoli, quindi c'è ovviamente una prima, un primo capitolo diciamo di carattere introduttivo che racconta a grosse linee eh la storia dei Longobardi appunto nelle linee essenziali, quindi eh quello che hanno rappresentato più che altro per il territorio cercando di 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 stabilire un firruge ecco tra la nei due secoli in cui eh la loro esperienza, la loro la loro vicenda si è si è articolata in Italia e poi successivamente tutti gli altri capitoli, un gruppo di capitoli è diviso per per regione, quindi siamo partiti ovviamente dal Friuli Venezia Giulia per poi eh affrontare il Trentino, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia eh andando proprio a indagare tutti i luoghi che ricordano la memoria o eh rappresentano, portano qualcosa di visibile legato ai Longobardi. Ovviamente seguendo potremmo così dire la l'occupazione, nelle fasi di occupazione, no? Quindi chiaramente ho immaginato, ho cercato di immaginare e ho cercato di di strutturare anche questi capitoli eh proprio immaginando i Longobardi mentre pian piano come ci racconta Paolo Diacono eh si espandevano, no? Nella pianura partendo dal Friuli, primo Ducato e poi dopo pian piano alle altre regioni, no? Arrivando poi eh a occupare comunque anche buona parte della dell'Emilia, non la Romagna che come sappiamo tutto era in mano bizantina e tale rimase per lungo tempo, no? Ehm e quali quindi partendo dal dal Friuli praticamente la prima grande città, la capitale ecco del Ducato, il primo Ducato che troviamo ovviamente è Cividale e quindi qua si parla di eh anche dei gioielli, no? Quindi cerco di descrivere quali che sono i gioielli eh Longobardi visibili eh nella città di di Cividale del Friuli, quindi chiaramente si parla del del Tempietto Longobardo, cosiddetto Tempietto Longobardo, quindi Monastero di Santa Maria in Valle dove c'è dentro questa eh meravigliosa cappella eh privata insomma possiamo dire che fu edificata da Stolfo eh e che ha al suo interno una testimonianza straordinaria che è eh quella appunto di teoria di sante figure insomma eh scolpite nella stucco eh e insomma in generale una delle rare testimonianze appunto di 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 edificio ecco ancora eh in piedi ecco dalla 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 dalle fondamenta al tetto per quanto in maniera molto particolare perché ha subito distruzioni durante i terremoti insomma a varie vicissitudini legate appunto alla alla all'architettura a lungo barda e che tra l'altro come sappiamo insomma insomma insieme a a a a Castelseprio e al complesso di mh Santa Giulia e San Salvatore di Brescia fa parte eh del del sito UNESCO e Longobardi in Italia eh questi sono i siti del nord poi ci sono altri siti in tutto sono sette eh due si trovano a a Spoleto eh gli altri si trovano a tra Benevento appunto la la chiesa di Santa Sofia e eh il ehm il tantuario Michaelico del Gargano no? Quindi eh anche qua patrimonio UNESCO che lega ecco tutta l'Italia eh per quanto riguarda i Longobardi ma eh che io ho affrontato in maniera analitica soltanto per quanto riguarda l'Italia stentrionale. quindi ovviamente da Cividale si passa chiaramente alla al Trentino perché anche qui ci sono delle ci sono stati dei ritrovamenti importanti a livello archeologico sin dalla fine dell'ottocento eh questi ritrovamenti archeologici di sepolture sono stati tante volte studiati sono musealizzati sono visibili dove lo racconto appunto nel libro eh ma racconto appunto anche come poi questo eh questa presenza dei Longobardi si è disposta sul territorio perché in certe zone sì in altre no che tipo di popolamento avevano dato vita eh che tipo di di insediamenti eh che tipo di testimonianza hanno lasciato perché mh in certe zone eh troviamo più necropoli in altre meno perché ci sono determinate fondazioni religiose a che cosa sono legati quindi è proprio una grande narrazione del territorio che si vede soprattutto in Veneto eh dove appunto tra l'altro sono emerse di recente proprio delle delle nuove testimonianze di cui ho fatto appena 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 in tempo ehm a parlare ad accennare in particolar modo appunto nel Vicentino a Monticello di Fara nome nome ovviamente eh è stata trovata di recente proprio qualche mese fa una una necropoli con circa una cinquantina di tombe tra l'altro connesse sembrerebbe ad un edificio di culto ovviamente si tratta di un ritrovamento importante che è in fase di studio e di catalogazione insomma di analisi e di cui è stata data notizia proprio di recente per cui si spera ci sarà anche poi una pubblicazione scientifica degli scavi e quant'altro ma che rappresenta l'ennesima testimonianza eh diciamo visibile anche clamorosa se vogliamo della della presenza a Longobardi che è legata tante volte viene scoperta viene dettagliata sempre di più proprio da questi ritrovamenti archeologici dettagli dagli scavi eh spesso e volentieri di emergenza cosiddetti no cioè dalla dagli interventi che vengono fatti in corrispondenza di eh o in occasione di eh lavori pubblici di risistemazione soprattutto nelle campagne magari di di cavi dell'elettricità o del gas oppure la realizzazione di centri commerciali di parcheggi di altre infrastrutture di strade e quindi troviamo insomma la negli ultimi anni sono stati sono stati sono stati trovati parecchie parecchie necropoli pensiamo a quelle qua in Lombardia legate alla tem la la famosa pedemontana eccetera eh che hanno appunto cioè sbancando milioni migliaia di metri cubi di terra insomma in zone che si sapeva ecco erano attraversate un tempo da insediamenti perché già erano state eh oggetto insomma di ritrovamenti più o meno importanti non solo di epoca a Longobarda sono stati trovati appunto altre necropoli eh e altre testimonianze queste testimonianze pian piano laddove è possibile vengono musealizzate e di conseguenza io ho cercato di raccontare anche questo eh Lombardia eh ce ne sono molte una in particolare appunto questi di relativa a questi questi ultimi ritrovamenti emersi durante la costruzione della eh della 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 tem quindi di di queste breccelle insomma che collegano Brescia Bergamo con Milano evitando insomma le le grandi l'auto la parte dell'autostrada già conosciute eh hanno portato al ritrovamento di di svariate testimonianze anche importanti che sono state musealizzate alcune di queste nel mago cioè nel museo archeologico dei grandi opere a Pagazzano al castello di Pagazzano provincia di Bergamo e ehm con un allestimento anche piuttosto interessante sul piano multimediale c'è anche un bel video filmato di ingresso che è molto bello perché ricostruisce proprio la comunità anche che eh quali erano le tipologie le caratteristiche della comunità che mh appunto era presente in questi territori eh e la stessa cosa vale per il Piemonte è chiaro per l'Emilia che è una terra di confine dove confine liquido fluido chiamiamolo come vogliamo oggetto di di varie eh battaglie insomma di varie contese quindi eh chiaramente con insediamenti anche particolari tipo quello di Spilamberto in provincia di Modena che è ben noto insomma studiato ma che eh è emblematico insomma anche della della posizione appunto di confine della comunità lungobarda e del fatto che spesso e volentieri l'incontro scontro con eh i nemici insomma bizantini un impero romano d'oriente che deteneva eh ancora eh una parte ecco del dei territori soprattutto nelle coste dipendevano dall'esercato sulle coste appunto adriatiche eh erano i rapporti quelli che venivano intrattenuti non sempre di carattere conflittuale a volte anche di 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 scambio insomma e di di interazione e eh quindi questo ovviamente permette poi di ricostruire e di fare un discorso anche un pochino più complesso che anche in questo caso si legge insomma eh attraverso l'analisi e lo studio di questi di questi reperti di alcuni di questi reperti eh un fase appunto di di scambio culturale tra due popolazioni differenti eh che hanno comportato lo scambio reciproco anche di di oggetti di di monili di gioielli specie per quanto riguarda l'aspetto dei dei corredi femminili e quindi ci danno molta molta informazioni anche su quello che doveva essere o schemi insomma di interpretazioni di quello che doveva essere poi la vita effettivamente in queste comunità al di là di quello che è eh l'aspetto scenografico tra virgolette dei reperti che in alcuni casi sono molto belli eh quindi che dire è un testo io credo che si può leggere ma si può anche vedere guardare proprio per in virtù dell'apparato iconografico esplicativo molto sostenuto eh ma troverete sicuramente una grande grande messa di informazioni io spero insomma ho cercato di includere il più possibile i dati eh che che avevo cercare di sintetizzarli ma anche di essere esaustiva il più possibile perché veramente le testimonianze sono tante eh per quanto riguarda la scelta ecco della del del limitarci soltanto l'Italia settentrionale qui è una scelta dovuta a due ragioni fondamentalmente cioè una di carattere editoriale perché l'editore ha chiesto di occuparsi specificatamente dell'Italia settentrionale lasciando per il momento eh a parte eh sia l'Italia centrale che l'Italia del sud quindi il mezzogiorno nella speranza io veramente auspito di potermi anche occupare di questo magari in altri futuri volumi della stessa collana e quindi una ragione di carattere veramente editoriale l'altra anche di carattere potremmo dire programmatico nel senso che eh effettivamente trattare in un unico volume le testimonianze di quello che era il cuore del regno cioè l'Italia settentrionale eh aveva più senso perché caratterizzate comunque tutto sommato pur nelle differenze anche da ma abbastanza una omogeneità fondamentale di di concezione no eh anche territoriale nel senso che questo era il cuore effettivamente del regno la cosiddetta Langobardia Maior no ehm e quindi insomma ci è sembrato giusto anche per questa ragione circoscrivere ecco la trattazione in questo volume anche per una ragione di spazio poi a a questa a soltanto a questa parte e nell'auspicio di poterci occupare poi delle tante testimonianze dell'Italia centrale eh specialmente per quanto riguarda il Ducato di Spoleto e poi ovviamente il la tuscia logicamente e poi il mezzogiorno perché chiaramente si tratta di due altre parti ecco di questo mosaico due altri tasselli del mosaico che sono assolutamente indispensabili per riuscire a leggere poi correttamente l'intero quadro chiaramente così sarebbe soltanto una parte parziale se vogliamo ecco del del discorso però una parte io credo davvero importante è davvero è davvero notevole nel senso che veramente le testimonianze che hanno lasciato i Longobardi sono tantissime e io credo tutto sommato siano ancora poco conosciute anche dal grande pubblico se facciamo appunto eccezione eccettuati i grandi i grandi luoghi ecco noti a tutti ma poi ci sono delle città che eh come per esempio Pavia che fu capitale del regno Longobardo che eh vengono lette in controluce in alcuni casi possiamo dire perché insomma sembrerà paradossale no però che poi è anche una delle ragioni per cui i monumenti di Pavia non sono stati inclusi nel nel sito UNESCO di cui parlavamo prima eh sembrerà paradossale ma lì nel cuore ecco palpitante della della del regno Longobardo a Pavia eh i monumenti che possiamo vedere oggi e che sono effettivamente tra virgolette tra virgolette Longobardi dalla testa ai piedi sono pochissime o meglio non ce ne sono ci sono le cripte sono sotto terra perché le grandi chiese che pure furono fondate dai Longobardi o che sono legate alla memoria dei Longobardi come San Michele Maggiore come San Pietro in Celdoro come altre eh sono in realtà state costruite in una fase successiva nel nel medioevo durante il periodo romanico e questo anche a causa di eventi diciamo catastrofici sapete del famoso terremoto nel 1117 che lesionò moltissimi eh monumenti fu distruttivo insomma oltre che creare anche parecchi morti ma proprio fu dal punto di vista strutturale nefasto ecco per per molte città del nord Italia no che videro proprio il crollo o comunque la lesione importante dei di di molti dei monumenti di molte delle chiese delle basiliche preesistenti quindi si rese poi di fatto necessario un intervento draconiano possiamo dire non era neanche tanto ricostruire quanto il costruire ex novo anche perché oltretutto nel caso di queste basiliche ma anche di altre eh anche la società insomma e le esigenze erano cambiate. se eravamo nella piena temperie comunale insomma c'era stata anche un'esplosione demografica le necessità anche di di accrescere comunque per varie ragioni le chiese e quindi quelle di prima non erano di fatto più sufficienti anche a contenere eh la popolazione dei fedeli e quindi per molte ragioni anche di carattere estetico di carattere liturgico eh si provvide insomma la ricostruzione ex novo chiaramente quello che rimase magari meno eh toccato furono le cripte mentre il resto del dell'edificio quello che si vede innalzato di fatto fu ricostruito ex novo no quindi magari utilizzando anche materiali di riempiego come i capitelli come altre cose come al tapidi elementi decorativi plutei no tutte cose che poi magari sono state riutilizzate murate dentro oppure sono state situate in altri in altri contesti no? e quindi eh qua quello che nel caso di Pavia si fa è proprio leggere la città eh come dire in negativo no? Quindi eh certo citando i grandi monumenti che noi vediamo e che sono più che altro importanti sul piano storico delle testimonianze storiche eh San Michele Maggiore è possiamo dire il santuario nel nord Italia più importante legato all'arcangelo e quindi quello che è anche per quanto riguarda proprio l'aspetto possiamo dire religioso simbolico legato a desiderio che pregava secondo il cronico nuova licenze all'interno della chiesa mentre veniva Pavia veniva assediata dai carolingi da Carlo Magno eh è sicuramente un retaggio morale importante però di fatto eh se noi vogliamo vedere qualcosa di autenticamente autenticamente Longobargo o andiamo ai musei eh civici che si trovano appunto nel castello di di Pavia dove troviamo meravigliose testimonianze lapide soprattutto eh provenienti appunto dalle chiese oggi non più esistenti come i plutei per esempio di Santa Maria Teodote eh no che sono famosissimi celebermi bellissimi sono stati anche esposti di recente alla nel duemiladiciassette nella grande mostra di Pavia eh eh oppure appunto andiamo nelle cripte queste cripte in particolare quella di Sant'Eusebio che eh sono state anche rese fruibili di recente grazie anche alla grande mostra di Pavia nel duemiladiciassette quindi è una storia se vogliamo non visibile o più non più di tanto ma tutta da riscoprire anche in questo caso facendo un un lavoro eh ulteriore ecco di analisi e di di scoperta eh anche il Piemonte ha conserva tante queste testimonianze di Longobardi anche in questo caso più che edifici magari ecco visibili o apprezzabili in toto si parla di necropoli perché eh basti dire che eh a Sant'Albano Stura in provincia di Cuneo è stata trovata una delle più importanti più imponenti necropoli in assoluto in Italia oltre ottocento tombe quindi eh veramente grande eh questi reperti sono stati musealizzati anche qua racconto tutta la storia altre necropoli importanti come quella di Collegno quella di Cestona molte di queste erano già note anche sono state scavate alcune eh addirittura nell'ottocento quindi alla fine dell'ottocento ehm altre sono state scoperte di recente eh che hanno proprio dato anche la la l'occasione ecco per per rileggere e e rielaborare il discorso sul popolamento Longobardo in Piemonte eh che sicuramente non fu magari capillare se vogliamo come quello Lombardo però fu importantissimo perché Piemonte si trovava in una regione di frontiera eh affacciata diciamo di confine con i franchi diretti con petitorso diciamo eh per quanto riguarda la conquista e la gestione dell'Italia tant'è che poi appunto saranno i franchi a decrettare la la fine ecco del regno in Italia eh e quindi eh diciamo che paradossalmente si 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 ritrovano molte necropoli molti ritrovamenti molti molti molte testimonianze eh a livello archeologico eh meno a livello invece di edifici magari fruibili o visitabili eh però mh tutte queste testimonianze sono musealizzate quindi anche in questo caso ho detto dove e come ci sono magari molti reperti singoli nascosti o contenuti eh in vari luoghi che sto nel generico volutamente perché altrimenti poi tolgo il piacere della scoperta ma eh che sono sono magari visibili come come non so rapidi di rimpiego o altro all'interno di di altri monumenti alcune sono musealizzate altre sono magari più immediate altre meno e quindi insomma è una un viaggio ecco io credo alla scoperta interessante e accattivante credo che si possa fare possa farlo possa farlo chiunque perché ecco un'altra delle cose che mi piace sempre sottolineare sia in questo testo che in quell'altro dei longobardi di cui parlavo prima ho citato per di Arcos eh si tratta di testi sicuramente almeno quello per di Arcos magari è un po' più addentro a determinate questioni anche se cerco sempre di essere esaustiva e di spiegare anche a chi non abbia delle competenze specifiche questo invece è proprio anche bello da leggere per tutti ecco quindi alla scoperta di dettagli di curiosità anche se vogliamo di eh di grandi reperti di cose belle anche semplicemente per chi ama anche l'arte medievale in quanto tale eh e quindi può essere affrontata come lettura anche perché Snell ripeto molto mossa ci sono tanti box di explicativi di approfondimento tante immagini eh quindi può essere anche utile per per una prima approccia alla materia che che poi può essere approfondito ovviamente alla fine c'è una bibliografia eh che a cui si può attingere ecco per ulteriori approfondimenti eh un'ultima cosa che vorrei dire è che mh ecco a differenza di tanti altri testi che escono magari su questo argomento anche se non credo ci sia attualmente un testo unico che faccia un po' questo percorso quindi si tratta un po' di un una novità anche da questo punto di vista eh io eh ho messo sì ovviamente i reperti archeologici e ringrazio anche le soprintendenze e i musei che hanno collaborato cedendo insomma i diritti per poter pubblicare dando le le necessarie autorizzazioni per poter pubblicare le le immagini dei reperti soprattutto i musei reali di Torino ehm dicevo ho pubblicato i reperti ho pubblicato le testimonianze materiali ma ho voluto anche puntare sulle ricostruzioni la ricostruzione storica eh come sapete insomma è un altro dei dei grandi modi ecco io penso di fare anche didattica corretta e di di aiutare ecco nella divulgazione storica e eh nella fattispecie mi sono avvalsa dei miei storici amici dei fortebraccio verigrense un gruppo di ricostruzione e rivocazione storica delle marche con cui ho già lavorato tante volte in molti eventi e chi lo segue mi sa chi chi mi segue lo sa scusate ehm che appunto ha dato mi ha dato la possibilità di pubblicare delle immagini a corredo che secondo me sono molto carine perché danno la possibilità anche di vedere poi come questi reperti erano effettivamente indossati cosa importante perché chiaramente noi li vediamo tra virgolette decontestualizzati magari esposti all'interno di vetrine museali non sempre magari ci viene mostrato di fianco in un pannello una ricostruzione o ci da si dà l'opportunità di comprendere poi come quel dato reperto era utilizzato ecco nella vita materiale reale parliamo delle fibule parliamo delle delle cinture parliamo di tanti altri dettagli dell'abbigliamento ad esempio ma parliamo anche delle armi che eh vediamo magari solo in parte perché eh non so l'impugnatura che era in materiale organico non c'è più eh la parte dello scudo appunto che era in materiale organico ovviamente non si è conservata quindi ci sono solo le decorazioni ecco attraverso queste immagini invece eh ho cercato anche di mostrare come questi reperti poi avessero una vita effettivamente no nella vita materiale come fossero utilizzati dove erano posizionati come perché quindi troverete anche dei dettagli su questo che secondo me sono assolutamente imprescindibili per avere un quadro globale completo della della questione credo di aver detto tutto Maurizio cosa mi ha ascoltato fino adesso ma senza prospere parole ho sequioso silenzio perché è a te che toccava il compito di illustrare questo lavoro che è davvero interessante io ricordo il titolo sulle tracce dei Longobardi Italia settentrionale lo mostro eh lo mostro ma tanto si vedrà anche per te ecco quindi non ti devi preoccupare ah ok ci sono 160 pagine per soli 13 euro le edizioni del Capricorno e l'editore uscirà ripeto nelle librerie il 4 di marzo ed è un libro che io mi sento di veramente di consigliare a tutti grazie che vogliono percorrere le tracce dei Longobardi ecco qua voglio mostrare stavo facendo vedere degli interni questo ad esempio ecco era una di quelle immagini che dicevo prima no questo è il mio amico Cristiano Carassai dei forte braccia velegrenze e indossa per la collezione autunno-inverno dei Longobardi 2021 una bellissima panoplia di armi in questo caso appunto la una l'elmo che questo credo sia stato ricostruito da Sergio Verna se non ricordo male eh ed è uno dei tipici elmi appunto che utilizzavano i Longobardi e non soltanto eh in questo periodo lamellare è ricostruito su eh quei pochi insomma reperti di lamelle che sono riemersi da alcuni contesti tombali tedeschi della Germania soprattutto e l'armatura altrettanto lamellare in questo caso vabbè insomma con sostentrano troppo nei dettagli però eh dentro si spiega anche ecco alcuni particolari della non tanto dell'armamento quanto soprattutto della dell'abbigliamento li spiego perché eh sono interessanti adesso cercavo per mostrarvi anche una immagine sempre dei forte braccio veregrenze che ho che ho inserito all'interno a proposito proprio della dell'abbigliamento sia femminile che maschile eh si possono apprezzare proprio i dettagli di come questi eccolo qua come venivano indossati in questo caso parliamo dell'abbigliamento femminile questa Erika questo sempre cristiano eh che indossano vedete gli abiti queste sono tuniche ricostruite anche sul piano della decorazione attraverso lo studio dell'iconografia delle fonti eh qua vedete femminile ha una fibula qua in centro che non si vede benissimo ma è la fibula di Castel Crosino che è una delle fibule che appunto sono state trovate nelle una delle più importanti necropoli sono musealizzate a Roma queste ehm una delle più importanti necropoli d'Italia centrale eh e quindi insomma ecco si tratta di ricostruzione che in questo caso molto accurate che sono sicuramente importanti per capire poi l'uso quotidiano ecco del eh anche decorativo se vogliamo di questi monidi di questi gioielli e dei varia particolari dell'abbigliamento quindi basta insomma direi che vorrei vorrei parlarne ancora ma ci sono tante cose che mi piacerebbe raccontarvi ma vi rimando allegramente al testo sono convinta che vi divertirete a leggerlo perché è veramente eh ricco ecco almeno io spero che sia che sia un bel viaggio ecco quello che chi vorrà ci accingerà a fare ecco attraverso la Italia Longobarda e e attraverso questo patrimonio che secondo me tutto sommato è ancora poco conosciuto e meriterebbe sicuramente una una valorizzazione migliore al di là di tutto anche nella cultura generale nel nell'ambito quotidiano no ecco perché il medioevo è stato anche questo non è stato soltanto no il duecento il trecento le sfilate i cortei no che vediamo tante volte niente da dire ovviamente eh però da alto media vista mi piacerebbe che fosse più valorizzata anche questa parte che comunque è stata fondante anche per tutto il resto certo basta ricordare i confini cronologici no 568 al bovino entra 774 Carlo Magno conquista Pavia certo confige il regno Longobardo che però in parte prosegue la sua corsa con il ducato di Benevento che andrà avanti per molto tempo esatto a fine del regno Longobardo quindi fino all'arrivo dei normanni quindi è chiaro che stiamo parlando quasi tre secoli di stiamo parlando di un periodo storico anche lungo insomma stiamo parlando di un momento cruciale di cambio di scambio di 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 proprio di 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 campo anche di passo no se vogliamo di di transizione di 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 tra mondi diversi eh sappiamo perfettamente che tantissimi vocaboli del nostro volgare derivano dal Longobardo la toponomastica ha lasciato tracce notevoli no? certo costumi quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutte le stagioni quindi io ricordandovi di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org anche quando partirete per questo viaggio sulle tracce dei Longobardi ringrazio tantissimo Elena grazie a voi grazie a te eh l'auspicio se posso solo aggiungere è che si riesca anche prima o poi a uscire anche da questa emergenza di modo da poter tornare anche a viaggiare sul territorio quindi che questa che questa guida questo questo testo così come anche altri siano anche di buon auspicio eh per riprendere al più presto a le nostre scorrerie barbariche alla scoperta del del nostro patrimonio culturale che è talmente vasto immenso grande bello che veramente è un peccato che sia lì adesso è come se fosse lì a dirci tornate presto perché le aule vuote di questi musei sono veramente tristi ecco speriamo che quello che si riapra il tutto il prima possibile anche perché vorrà dire che saremo fuori da quest'incubo è quello che vogliamo tutti assolutamente come tornare a presentare queste interessanti pubblicazioni in presenza con il pubblico con la possibilità di interagire di porre domande e non di limitarsi semplicemente a ad ascoltare comunque grazie ancora grazie a voi grazie a te maurizio come sempre e alla prossima ciao ciao buona giornata anche buona giornata anche